ciao a tutti ragazzi finalmente fallout che ve lo avrei portato più spesso perché fallout mi interessa a me no aspetta qua qua mi serve la come si chiama aspetta aspetta tu vuoi venire bene ora andiamo alla stazione di cambridge che è pieno di gul quindi questa mi serve dato che non serve che ve lo ripeta fateci domande su qualsiasi cosa fammelo anche te presto oh shotata potentino il mio spacco bottiglia ma qui ci sono già stato eh sì ci sono già stato e vaffanculo solo faccio fuori no dai dai non è cattivo se non ti aggrediscono voglio dire che sono buoni o santa merda no 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 i gunner no e i gunner no i gunner no io io vado qui non voglio avere nulla che fare con i gunner no ad è che quando l'ho mai fatto giuro ti prego aiutami vogliono uccidermi taci a e posso fare qualcosa e negoziamo esatto dai pompo fa sintetico quanto tempo passerà prima che torni insieme ai suoi amici dell'istituto per farci fuori perché diavolo dovremmo correre questo rischio aspetta rischiare no liberalo altrimenti no decisamente no non ti ha fatto del ma o io ci provo io ci provo merda a presto non è piaciuto e rischiare di fare ah giusto è vero molto vero è la cosa più sicura da fare questo è un rischio cazzo pur di avere un signore a presto non è peta allora se sono violenta lui si arrabbia presto ok ok allora dobbiamo minacciarlo ma stiamo sicuri che non sarà una bella cosa quando non sarà una bella cosa cazzo ma non dovevi andare così cattivo troia ma quanto è forte sto qui scusate c'è io pensavo ma ma sì qualche e a presto non è piaciuto scusa eh non potevo fare un cazzo se no ma certo è giusto pago bottiglia ammazzo famiglia ma quanto è bello ammazzarlo niente con macete sono stato costretto non è successo niente niente vero eh sono morti tocca a te morire ma che cazzo vuol dire ah presto non è qua pensavo che fosse andata prego banche a solo verso 2 e la madonna no cazzo ah ok a media media va bene bene una tt45 fatto bene ci sono già passati ricordate limpiando con rega che bello che si sto a caso che era bello ah smaltimento capisci si so qual è so qual è eh c'è qualche come dire era total ma presto ma sei stupido cosa cioè era total pa alle spalle nulla va bene va bene aspetta ma se lasciavo che gli altri non uccidessero che succedeva ah di che era davvero un sintetico ah si qua scoperta salvaggi gloria all'atomo si è roba simile perché oggi c'è la nuova religione l'atomo è di notte c'è tipo il 20% di frequenza in più che ti inculino ecco qui dove dovevamo andare alla stazione di polizia eh sono arrivato in ritardo c'è qualche problema c'è ah no quello lì era già ferito di suo i vagabondi i vagabondi sono strappo più forti eh il paladino d'essere l'ha presa in culo vabbè ok che avevi no 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 non dico nulla non dico nulla sta arrivando vabbè ma lascia è nascita meno uno ah ah la mia vita che scende inesorabilmente presto ma che cosa stai facendo questo che gli tira una bomba macchetta e macchetta e macchetta e funziona sempre quei deficienti visto cosa avevo detto a me da me vanno guardali che stronzi sono almeno armato di tutti e vanno da me ah la confraternita che è una specie di nazismo cosa di simile ah sono finiti civile però va sopra mi per esatto veramente l'ho presa in culo anch'io eh va bene bravo non c'è mai stato di persona e allora abbiamo avuto diversi problemi tipo gull si gull perdoni gunner e poi tutto un po di tutto porca troia allora assoldami non mi assolda ah si assoldami nel senso mercenario ah presto un garvi che gli sa strassi i coglioni della fracofaternita d'acciaio ris quindi devo andare io in esplorazione giusto ah devo andarci io infiltreremo nel complesso recupereremo il trasmettitore e lo porteremo che ne dici ti va di dare una mano alla confraternita d'acciaio eh sa il casmo presto un disiniese ah ecco chi è l'uomo in meno aspetta che ricarico un po' qui ah pensavo fosse un cadavere non me non pensavo che aspetta ah vuoi roba che cazzo vuoi ma scusa ma sto qua ha preso una scopa in culo o cosa cazzo vuole no perché guarda vedi vedi la pistola hai capito ok ho mandato presto una casa perché la confraternita non gli piace e anche perché gli ho dato tutto quello che avevo a un bicchiere aspetta presto no aspetta davanti in bicchiere anzi no dai dai aspetta 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 dove stai andando si e piuttosto seguimi tu e cerca di non rimanere indietro che di solito gli npc sono lenti anche lui c'è uno delle poche volte che un npc va a velocità normale aspetta c'è un morto qua tutto devo rubarvi anche la vita anche le munizioni eh beh mi aspetta che bravo no dei predoni 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 non vedo una pip predone pesa ah predone no dove è dove è il predone pesaico scusa non è questo qua un predone pesaico tafermolo ammazzo io ammazzo io bravo ah completata segui il paladino dance nuova missione segui il paladino dance distruttore di sigarette ah distruttore di sigarette ma che cazzo leggo eh no 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 rastrellamento di recupero lo faccio io non te sono io l'ha detto che ok porta aperta oh santa merda sono arrivati sintetici questi sono i sintetici ma che brutti sono anche resistenti più del solito cioè più degli altri eh c'è rimasto con qualcosa in mano perché miri a me io sono tuo amico ah scherzavo eh sintesi troppo si si tu 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 vai avanti io 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 faccio il rastrellamento di di oggetti il lavoro che piace a me rastrellare oggetti per fare armi più forti per accompagnare le persone che poi manda al massacro per raccogliere altri oggetti per fare altre armi è un circolo vizioso si ma lasciami un po' di lasciami un po' di sintet- merci eh ma lasciami qualche sintetico a me però junk jet ah quello lì che spara da merda avvia generatore ausiliare benissimo energia nucleo del motore ripristinata la paura che ho preso motore termico alimentato attivato eeeh io non ho visto niente che cazzo vedevo no 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 era troppo vedevi paladino dance si prendeva raggi sulle parti e lui tutto tranquillo lì che ricaricava ah e comunque io faccio finta di non aver visto niente io tor- io tornerei di là ma va bene va bene va bene va bene ah e sarei morto ah da qui dove sono ancora con Preston eeeh siamo tutti i fini dell'episodio ah stavo scherzando siamo di nuovo qui sono passati tre giorni da quando ve l'ho detto di che finivo l'episodio si mi sono un po' scazzato quella volta ah 4 e la madomma quando si metti a fare un controllo rovescia io sono arrivato già a 0 allora io lascio fare tutto la dance eh perché io non muoio di nuovo vaffanculo ma sembra di stare in discoteca da tutte queste luci qua motore acceso pfff acce ahahahah avete visto come cazzo la moto qui sintetico ha fatto boing che è sta roba non me la ricordo test di accensione completato ah pulsante di avviamento motore bravo dance bravo 6,7% senta puttana merda ma cosa abbiamo fatto eh non sapevo che c'è allora fortuna che sta qua era una cosa per i test guarda come è messo il pavimento si ma la faccia io non guardo la faccia per un motivo valido ah no ancora vivo catroia è pieno di sintetici qua dance va avanti te io avete visto quante luci sono arrivate io non mi ok dance tu vai avanti io ti copro è quello che mi dice sempre Mr. L e indovinate chi muore io quindi stavolta andrei tu avanti così muori te ok dai dance dance coprimi no l'uccido io l'uccido io quello l'uccido io l'uccido bastardo che qui c'era dov'è lì no non era lì lì eccolo no e cazzo lì un due ecco qua qua non ci siamo stati ehi fa che ero 8 ecco perché no ce n'era un'altra se non sbaglio ah quello lì avevo poi giusti a paura pensavo fosse un sintetico wow merda no 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 aspetta un po' più vicino un po' più vicino un po' più vicino un po' più vicino no no ca troia aspettate devo ragionare adesso perché non posso morire qui no sono in due sono in due sono in due sono in due porca puttana non va fuori dal cazzo va fuori dal cazzo devo farlo devo farlo puttana merda ma da dove sboccano quei due lì ma avete visto come mi hanno ridotto due sintetici densi vorresti farmi il favore grazie ma vieni dentro vieni tranciato dalle porte dell'ascensore qua qua densi qua qua densi qua densi qua densi qua ma va a fare in culo ma va a fare in culo farla ah si è sponato qua densi densi o nulla eh sei una brutta persona e adesso è sponato fuori no la tempesta radioattiva si non è che vengono fuori dal cazzo ma è un po rognosa e poteva andare più liscia ma intanto oh 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 carisma si ma un po' più liscia intanto tu e le altre squadre sono morte e noi siamo vivi siamo una bella squadra già e possiamo averlo come compagno più avanti ma per farlo devo stare con i nazisti che sono la confraternita d'acciaio se mi consegni se me lo consegni si è ah l'autorità virtuosa che la barra dei critici si è scritto da sopra è un bel aggeggio solo che non è fatto per i cicchinaggi ovviamente non è necessario non basta hai altre armi ma sta guai è fortissima quasi hai una proposta aspetta ma se lo do a Preston lui lo può usare si vi spiego dopo perché è comportato davvero soldato grazie in realtà vorrei salvare Comun vuol dire lasciare un segno si va bene va bene quello che conta è aver completato la missione sempre invicta qua tutto latino è già già imparato mezzo latino per via di si ve l'ho portato come si chiama igna di esero giusto ho imparato metà latino da quello e io non studio latino quindi per fortuna mi dicono tutti è latino difficile e bla 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 gne 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 si ma beh ma neanche come dire si ma neanche elettrotecnica avanzata non è facilissima è pezzi di troie cosa c'è scritto flangia cilindrica e ora c'è e rastralamento finito non possiamo già portare più nulla tazza caffè sigaretta stavo dicendo noi possiamo darla presto in quel pucile perché come sapete lui ha il moschetto laser ma se tu gli dai un'arma che usa le stesse munizioni che userebbe normalmente col moschetto lui può usarla può usarla all'infinito quindi non serve che gli dai le cellule di fusione ok ragazzi il rastralamento finito e ok finito finito ah è ancora qua lui fa niente la casa ho messo il segno eccolo lì eh porca troia sono al limite del troppo peso ma riesco ancora a camminare bene andiamoli un attimo che è sempre meglio controllare in giro prima di prima è santa merda dai dai ti prego non dimmi che è una specie di boss fight o cosa simile perché ho bisogno di tutto ma no delle boss fight eh sì tu tu ah un dottore un dottore gu ah un dottore gu ok ok eh sì avresti un po' di trerocca acqua purifica ah 55 tienila tienila scusa tienila sega ossa ah non è come ti impotere che sega ossa usi come un'arma ma non è una negativa idea e ti frego tutto quello che hai vediamo se ho un letto perché mi dice insonnia devo dormire devo bere devo fare tutto ma non ho null ah non mi sembrava un nemico ah dormi ok pork and beans benissimo sedile di è una curiosità come hai fatto ad averlo madonna le radiazioni che salgono guardate non me ne ero accorto non è chiave inglese bravo e non mi ero accorto delle radiazioni io avevo fanculo fanculo le radiazioni me le prendo dormo lo stesso perché devo farlo ah cos'è che ho preso scusate che ah già la chiave chiave dove è chiave inglese questa qua pesa e basta senti fanculo le radiazioni no 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 torna dentro torna dentro torna dentro torna dentro torna dentro torna oddio oddio quante ne abbiamo quante ne abbiamo no senti ma perché la vita è calata di botto così hai bisogno di cibo fama è devastante ah regà ma che è sta roba bocconci ok e caramelle sono ben nutrito vediamo guardate l'omino spero di non trovarmi un orso oppure dato che no no sapete cosa c'è lì c'è c'è la come si chiama la stone age di macchine ma dentro c'è un behemoth ma uno non può stare tranquillo un minuto che paese di merda quindi non avvicinatevi almeno io non mi avvicino perché almeno io non devo avvicinarmi perché sono pieno di roba e quindi manderei a puttano una missione e tante altre cose visto che io dormire sui rifiuti tossici non lo faccio eccolo lì ma santa merda ma che paese del aaaah basta ma perché deve devo esserci ok lì c'è lo super mutante stingo in cazzo di varie lago walden passia e no dai ma presto presto sei arrivato solo adesso ma mi stai prendendo in giro è arrivato ora lui e poi ma sei lentissimo dai e ascolta come ti chiami presto anche giusto cazzo perché gli ho parlato green top ah green top non c'era ok so quale si ma può venire com'è che alla fattoria fincia hanno bisogno di aiuto cosa mi hai dato sì ho bisogno assolutamente voglio scambiare alcune cose ma c'è ah avevo tolto lui il calivero no il cappello tutto ma no il cappello il cappello dateli dateli un cappello vi prego dov'è il copricappo e chi è sento il cappello non lo riconosco ah tieni tieni l'autorità virtuoso magari che è più figa sì e seguimi soprattutto bravo vedi che ora stai meglio così ok ragazzi questo episodio è durato davvero tantissimo ci ha impiegato tre giorni a farlo tutto cioè ho fatto il primo dove vi ho detto che abbandonavo dopo te junior hai preso questo qua quindi sì è una vera sfida la sopravvivenza in fallout ci vediamo al prossimo episodio e per stungare vi è inquietando la dietro davvero sì sì puoi smettere di fissarmi fa niente e ci vediamo al prossimo episodio e continuate a seguirci